Ciao a tutti ragazzi, oggi sono andato al bar Fuccinemi, il solito ritrovo, con Tremontimone, faremo un giretto verso Volterra, visto che oggi è un giorno di festa in quel mio paese, abbiamo iniziato questa uscita a moto, visto che quest'anno non abbiamo ancora sfruttato a Speria una giornata con del tempo per poter uscire. Sì ragazzi, riprendiamo il video da qua, stiamo andando in direzione Volterra, come vedete. C'è un po' di vento ma si sta bene, il suono gradi da poi. Speria una giornata con il tempo per poter uscire. Speria una giornata con il tempo per poter uscire. Speria una giornata con il tempo. Speria un po' di vento. Speria un po' di vento. Speria un po' di vento. Grazie a tutti. 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 Foto di rito con la nostra buonissima focaccia e fra poco ripartiamo con nuove curve. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.